Ciao amici, eccoci tornati all'epopea infinita, ventunesimo capitolo del Final Fantasy Crisis Core By Massimo, by me, quindi, by me, by me, cioè non si può sentire ragazzi, mamma mia, manco, cioè, no io volevo non saper l'indirizzo, va bene, scusate, il mio inglese numero uno. Nello scorso capitolo, nello scorso appuntamento abbiamo abbandonato le meravigliose vacanze e adesso siamo al cospetto di Hate e di una creatura volante strana. Che sta succedendo? Che inquietudine. E' un'altra copia di Engil, questa volta forma di... sembra un lupo con... un lupo volante, anche se ne ha una sola. Ma le sorprese non finiscono mai, abbiamo qui un... un qualcosa meccanizzato e armato originario della Shinra. Che fa veramente schifo. Ha una... Questi... questi prodotti di... sono prodotti cinesi, cioè, durano... durano il tempo dell'uscita dalla fabbrica. Li usi una volta e li puoi andare a buttare. Come tutte le copie, anche questo sta stupendo la degradazione cellulare per causa della... della sua creazione stessa, sviluppata dalle... dalle... dai... dei poteri Mako e dalle... dalle energie che, bene o male, conoscete oramai un po' tutti, anche solo per... qualcosa... di intuito attraverso i vari capitoli del gioco, c'è i vari appuntamenti del gioco. Quindi, una flora, facciamo una. Mmm. Si, ma... Non preoccupi. Puoi sentire me? Restate proprio dove sei! Io... Io prendo la parte delle cose. Quindi, quella flora, facciamo. Ma comunque, tornando a noi, l'obiettivo di questo capitolo, di questo appuntamento con il gioco sarà finalmente realizzare questo carretto che serve a Heirit per portare in giro i fiori anche nei livelli più alti di Midgar per poterli vendere e abbellire e addolcire un po' questa città che è veramente triste, grigia e occludente, occludente, molto... termine abbastanza contorto. Grazie a tutti. E quindi abbiamo capito finalmente come è la situazione. Heirit rimane qui in attesa del nostro ritorno e noi dobbiamo andare in giro a fare questa, diciamo, piccola caccia al tesoro. Non di meno i trattori qui da guardie cinesi tornano alla carica e questa volta mi sa che li dobbiamo fronteggiare noi. Neanche a dirlo siamo dalla stessa parte perché, fino a prova contraria, ancora siamo dipendenti Shinra. Ma a di questa cosa pare non interessi più di tanto a queste macchinette, a questi robottini cingolati. C'è anche da dire che sono tutt'altro che un problema, sono molto lenti e poco... poco reattivi, quindi basta girarli attorno e come sempre colpirli dalle spalle. Cosa sono queste cose? Dunque, nuove armi mobili automatizzate. E servono contro le copie dei di Genesis. E sono riuscite a eliminare molte delle copie? Ci credo poco. La domanda a Giuseppe, perché allora attaccano anche me? Geniale, c'è qui un applauso, ci sta. L'ignoranza suprema. No, non riescono a distinguere la differenza tra una copia di Genesis e un operativo dei Soldier. C'è in pratica che attaccano chiunque. Vabbè, grazie, tanto voleva tirare una bomba atomica. Va bene, ma parte questo. Ok. Figura delle cacca. Proprio... Escrementi. Figura da escrementi. Perché se vi rileggete il dialogo era tutto incentrato su... Se vuoi rimanere a giocare con Elite, fai pure. Io farò il mio dovere da Tarks. E la risposta è stata... Ah, ma io mi occupo di difendere perché sono un soldato, un soldier, eccetera. E il ragazzino è arrivato, boom, gamba tesa. Ma ora ci sta spiegando quali sono gli utensili, cioè il materiale che ci serve per realizzare questo carretto. Quindi abbiamo bisogno di un progetto, delle chiavi, dei martelli, insomma degli arnesi proprio per realizzare tutto, delle ruote e del legno. In giro per la mappa, in vari punti, troveremo delle cose. Chiaramente, se vi ricordate un pochino nel gioco, fate conto che comunque questa è una caccia al tesoro molto guidata. Perché ogni volta che voi troverete qualcosa, il ragazzino si farà vedere e vi darà un suggerimento per trovare l'obiettivo seguente. Con la scusa che in inglese, chiaramente, potrebbe essere più complicato. Però, se fate attenzione a quello che avete visto durante il gioco, soprattutto nella città di Midgard, perché tanto più di lì non andiamo, vi dovreste ricordare di dove sono piazzati i vari pezzi. O comunque, di chi potrebbe avere i pezzi giusti. Ecco, ad esempio, ci consiglia di andare nel mercato dello slam, cioè, quindi, a poche schermate di gioco da qui, per andare a cercare qualcosa. Andiamoci ad arrivare e vediamo di che si tratta. Chiaramente, se vi ricordate, sempre nel mercato dello slam ci siamo andati quando cercavamo appunto lui, perché ci aveva rubato i portafogli. E vediamo che cosa ci dà di utile. Ah, qui all'interno sempre del mercatino c'è un altro minigame con questo ennesimo ragazzino, che poi, se non sbaglio, è quello di prima. Cioè, o avevano problemi di budget, quindi non hanno realizzato nuovi NPG, o in alternativa, è lo stesso. In pratica qui, più che altro, dobbiamo scommettere su che numero di persone passerà in un determinato periodo di tempo. Ovviamente questi video sono molto lenti, lo comprendo perfettamente, sono anche poco interessanti da vedere, ma per il mio genere di gioco mi piacerebbe, cioè, per quello che piacerebbe a me, non mi andrebbe di saltare pezzi, anche se comunque sono minigame o semplici routine. Considerate più che altro che durante questi video fatti fino ad ora ho saltato tutte le sezioni fatte di farming, che quelle sono veramente delle cose particolarmente noiose. Il grinding per prendere livelli, punti esperienza, oggetti con le missioni, quelli li ho evitati. Tornando al gioco, in questo momento, vedete, ecco, il legno. Questo è il legno che ci serve, è quello che possiamo utilizzare per creare le sponde e la base del carretto vero e proprio. Il proprietario del legno, però, mi sembra che non sia molto interessato. Ma basta, spiegargli un po' le nostre motivazioni. Nel Sector 7, chi si ricorda cosa c'è nel Sector 7? Di Final Fantasy 7, ovviamente. Se ve lo ricordate, scrivetemelo nei commenti. Che nome diamo a questo locale che questo carpentiere, questo falegname deve costruire nel Settore 7? Che ne dite? La tartaruga allegra, il bar del sole, il Seven Haven, o l'altra che purtroppo non ho letto perché ho perso troppo tempo. Comunque, la risposta è Seven Haven, che non è quel vecchio telefilm che mandavano in Mediaset, ma è un posto, così. Se leggete anche quello che il falegname vuole fare in quel bar, realizzando quel bar, bene o male, dovreste capire anche di che cosa stiamo parlando. Comunque, scrivetemelo ugualmente nei commenti, insieme a insulti, complimenti, minacce, quello che volete. Sono qui per fare chiacchiera. Ok, abbiamo ottenuto il primo dei pezzi che ci serviva per realizzare questo carrettino, il legno. A questo punto ci servono le ruote. Ci servono delle ruote da macchina. Ma delle ruote da macchina? Vi immaginate un carretto in legno con delle ruote da macchina? Veramente, sembra tipo quello dei mercatini rionali. Comunque, dove abbiamo visto una macchina in tutta Midgard, l'abbiamo vista dentro il palazzo della Shirra, è in un altro posto. Questo bambino è un appassionato di treni. E' in un altro posto di treni. E' in un altro posto di treni. E' in un altro posto di treni. Che belle cose, mentre mi si è disattivato il monitor. Va bene. Chiaramente voi non l'avete vista questa cosa. Ah, che grande potenza tecnologica i pc. E comunque, dicevamo, questa è la piazza. Andando dritto lì in fondo c'è il palazzo della Shirra, ma girando qui di fianco nella Loveless alla fontana. No, tornando indietro andiamo alla fontana. Questa è la Loveless Halley, mi pare. Insomma, comunque, la via del senza amore, che comunque si fa al famoso libro. Ma comunque, la famosa opera poetica, drammatica, eccetera. Ma comunque, questa è l'unica macchina che abbiamo visto nel gioco. Che poi stiamo parlando, cos'è? Un'ape? Un'apecar di quelle della Piaggio? Perfetto. Secondo oggetto recuperato. Abbiamo finalmente anche le ruote per il nostro carro. Qui non abbiamo dovuto fare nessun giochino, semplicemente gli abbiamo dovuto... cioè, gli abbiamo parlato, ci ha regalato queste ruote. Ora, servono le istruzioni. Le istruzioni che il ragazzetto ha dovrebbe avere già di suo, a quanto pare le ha smarrite. E dove le teneva? Dove le teneva? In un elmo della scirra. Ora, l'elmo della scirra che abbiamo trovato all'inizio di questo minigame, magari è quello che stiamo cercando, no? Magari. Quindi, torniamo all'inizio della... Torniamo alla chiesa abbandonata dove Eirith coltiva i suoi fiori e abita. E andiamo a prendere il... l'elmo. Il casco. Ve lo ricordate il film Il gladiatore? Film vecchissimo oramai. C'è... c'è una... la scena dove il protagonista con il suo elmo all'interno dell'arena del Colosseo combatte e vince e l'imperatore gli chiede... cioè, vuole sapere chi sia. Nel... su YouTube, comunque, cercando Savvatore S-A-W-A-T-O-R-E trovate un... credo che ci sia ancora trovate veramente un... uno spezzone dove un doppiaggio in dialetto catanese che faceva morire dalle risate e c'era questa scena con... E tu, giovanotto, levati il casco! Come... il casco, non l'elmo. Va bene. Dettagli inutili. Spero che qualcuno possa interessare. Giusto per dare qualche visual in più a quel video che... già ne ha parecchi. Perfetto. Abbiamo preso anche l'ultimo componente, mi sembra. Sì, non servivano gli attrezzi. Bastava semplicemente recuperare i componenti perché noi gli chiodi li martelliamo con le... con le nocche, con i pugni. o a testate, come... si diceva tanto tempo fa dei... dei carabinieri. magari ci fosse qualche oggetto nascosto qui in giro mentre... no, non c'è assolutamente nulla neanche solamente sfondo e... non ci rimane altro che andare avanti e completare il... il nostro obiettivo del minigame. Se... a questo... in questo momento se cliccate quando vi appare l'immagine potete vedere il... la copia qui di Genesis... cioè di... Angel che ci fa da... che fa da guardiano da protezione a Erit e iniziamo a... dar di martello e il risultato eh? bella faccia non è proprio come me l'aspettavo ma di che ti lamenti vabbè che pare una carrozzina ne voglio uno più carino oh signorina cioè è la... è una cosa infini classica come... Bene, si è conclusa la sezione dedicata alla costruzione del corretto, la nostra doce amichetta e faccio le virgolette con le dita, adesso avrà come andare in giro a portare fiori. Ma tornando a noi, la situazione diventa drammatica, abbiamo il nuovo incarico. Lazzard, Hollander, e Genesis? Ci dovremo andare a vedere. Let's go. Prima, andiamo al luogo del soldato, andiamo a partire, in modo che tu e il resto dei soldati sono pronti per andare. Entenduto. Uh, drammatica questa scelta. Sefiro potrebbe abbandonare la Shinra. Ma, bene o male, sappiamo perfettamente come andrà la storia. Dunque, questo è un momento di separazione, per così dire. Un po' tutti quelli che sono stati personaggi all'interno del gioco, fino ad ora, sembra che si stiano, scusate, sia importanti che secondari, come ad esempio Kunzel, che non è stato altro che un PNG di supporto, visto in vari punti, ma solo per delle brevi discussioni, ci sta lasciando. E gli altri soldi sono spariti per motivi vari, come sappiamo bene, in base alla trama, chi è scappato, chi è morto, chi si è disperso, Sefiro vuole abbandonare. Insomma, la Shinra sembra che stia decisamente colando a picco. Manca anche il direttore, per cui non ci rimane altro da fare che aspettare e vedere che cosa succederà. Ma tutto questo lo vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti, un abbraccio da Massimo.